Adesso canteremo il Tedeo, che è un imno deputato al ringraziamento all'ultimo dell'anno. È un imno bellissimo, antichissimo, che consacra tutto il tempo, tutta la storia, tutta la vita, tutte le speranze, alla certezza che credente ha che Dio non abbandona. E' un desiderio di salvezza. Salva il tuo popolo, Signore. E' un desiderio di perdono, di misericordia. E' un desiderio assoluto di voler consacrare il tempo alla storia, assolutamente. Perché se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Te, Dio, lo diamo. In Te, Signore, confidiamo. Noi ci abbandoniamo a Te, con tutti gli angeli e con tutte le potestà celesti. Con il coro degli angeli in cielo, cantiamo a Te, Tu sei Santo, Tu sei Santo, Tu sei il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della Tua Maestà, Te, Glorioso, Te, i profeti, in numero enorme che hanno annunziato. Per Te, i martiri hanno danno il loro sangue, Tu sei la nostra salvezza. Te, Dio, lo diamo. Te, Dio, lo diamo. Te, Dio, lo diamo. CZERE minor che hanno affid Veganinica Petit. Per te, Dio, lo diamo. Dì che stai bene o che gloria Santo 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Padre, immense maglie estatis. Eia, come teo, e tu mio figlio, santo e cuore, paraclino un spirito. Eia, come teo, e tu mio figlio, santo e cuore, paraclino un spirito. Eia, come teo, e tu mio figlio, santo e cuore, paraclino un spirito. Eia, come teo, paraclino un spirito. Eia, come teo, e tu mio figlio, paraclino un spirito. Eia, come teo, 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 paraclino un spirito. Signore, in te spero non abbandonarmi, non dimenticarti di me. io spero in te c'è una bellissima preghiera che insegno ai bambini signore è proprio il contrario se io mi dovesse dimenticare di te tu non dimenticarti di me questa è la consiglio stasera preghiamo assisti signore il tuo popolo che ha partecipato ai santi misteri che si affida alla tua protezione e donagli di trascorrere l'anno nuovo lontano da ogni pericolo nella serenità e nella pace per Cristo nostro signore parroco anche noi facciamo gli auguri per l'anno che è passato ricco di impegni e per il prossimo ancora più ricco di impegni e di vita pastorale a servizio di questa comunità parrocchiale e della diocesi tutta di Napoli molti auguri tanti, tanti abbracci grazie 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 a tutti a me la benedizione mi raccomando stasera a tavola soprattutto i papà e le mamme non vi dimenticate di benedire i figli se ci sono i nonni sono i nonni a farlo ok non ciò scudiamo il signore sia con voi possa la strada venirti incontro possa il vento sospingerti dolcemente possa il mare lampire la tua terra e il cielo coprirti di benedizione possa il sole in mare il tuo volto e la pioggia scendere e tot possa il dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro possa il dio tenerti sul palmo della sua mano lo ripeto possa il dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro olsa la sua tenerezza largamente benedirti il padre il figlio e lo spirito santo In nome del Signore andate in pace